Ci sono due cose che credo siano fondamentali e importanti. Il primo dato è quello che attiene la figura di Luca Zaia. Gli elettori veneti hanno premiato un governatore che si è messo sul serio al servizio della nostra regione, che è sempre stato presente nei momenti più difficili, ha assicurato qualità all'agire amministrativo, stando lontano dalle fumisterie del politichese. E quindi è una vittoria personale di Zaia che diventa però, in secondo luogo, vittoria anche dell'idea federalista. In un momento in cui lo Stato sta riaccentrando le competenze, assorbendo e drenando risorse come mai prima dai territori, serviva un segnale in controtendenza e giunge forte e chiaro dal Veneto l'unica vera riforma in cui ha bisogno il nostro paese si chiama federalismo. E a me fa un grandissimo piacere che l'idea che con l'amico Covre avevo lanciato tre anni fa, quella cioè di dare un respiro nazionale alla Lega, trovi oggi in Salvini un interprete deciso.